parliamo anche di jolly e vediamo eccoci qui eccoci qui parliamo di cinque personalità cinque personalità che abbiamo perché potremmo essere anche noi una di queste cinque personalità in base al momento della nostra vita in cui ci troviamo però sono quelle personalità che dovremmo molte volte evitare o perlomeno conoscere quando siamo all'interno per esempio di una riunione stiamo parlando in un gruppo ma anche tra amici ci sono queste personalità che delle volte possono danneggiare se stessi quando si muovono e si comportano in questa maniera e anche il gruppo perché andrebbero ad inibire le parole degli altri andiamo lì subito a vedere una sorta di chart classifica abbiamo il numero 1 che l'aggressore o il bullo da giostra ovviamente l'ho preciso bullo da giostra è un mio termine che ho messo qui perché l'aggressore intendiamo un po più formale e quella persona che in un dialogo in una discussione tende ad essere sempre aggressivo sempre con queste parole perché allora perché cosa è successo che cosa c'è allora perché quindi poi sempre questa modalità molto aggressiva e tra l'altro sembra quasi che vada a cercare lo scontro delle volte lo cerca davvero altre volte proprio nel modo di fare di porsi che ha questo aspetto proprio del bullo da giostra che vuole occupare lo spazio che si atteggia che si pavoneggia con le sue parole e cerca anche di portare avanti sempre questo questo modo di parlare questa domanda è molto spigolosa e proprio da quasi da provocarti da volerti provocare che cosa succede va ad inibire sicuramente il gruppo perché ci sono le persone più mite più tranquille all'interno di questa discussione che non parlano perché sono bloccate proprio da questo suo modo di fare cioè perché devo parlare questo che continuano sempre a fare in questa maniera io non ho voglia di litigare soprattutto se c'è una persona sensibile che vorrebbe evitare lo scontro ed ha proprio fastidio e questo dice ok l'aggressore potrebbe in qualche maniera tranne profitto perché dice così quando parlo io non parlano gli altri e no perché quello che non riesce a vedere questo aggressore è che potrebbe anzi succede come a tutti dire delle cazzolate per cui far parlare tutti potrebbe far lievitare poi una figura dopo in quello che sta facendo io adesso sto immaginando nella mia testa lo dico ad un esempio di una riunione di lavoro ma questo vale in ogni aspetto no ma anche quando vada andiamo a prendere una pizza l'aggressore che insiste che deve andare a mangiare lì poi arriviamo e lì c'è una cosa che l'aggressore stesso non piace e poi fa la figura del cretino perché ha insistito su una scelta se avesse fatto parlare un'altra persona probabilmente diceva guarda nicola antonio come ti chiami tu e perché lì c'è proprio questo questo pomodoro che a te non piace e quindi smetti di parlare stai tranquillo però se lui agisce in quella maniera immaginano una scelta aziendale in un gruppo in una riunione praticamente è deleterio solo lì dovrebbe intervenire una persona che riesce a gestirlo per farli stare tranquillo un moderatore bravo dovrebbe cercare di contenerlo perché questa è una personalità che danneggia l'intero gruppo di lavoro secondo aspetto un po meno irruento della personalità aggressore ma è il mister no e come per contratto mister no deve dire sempre no sempre 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 no tu fai una proposta dice qualcosa dice no 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 va bene questa qui e la cosa terribile in questo comportamento è che il no delle volte è dettato proprio dal fatto che non arriva a nemmeno ad ascoltare e quasi è come se ottenesse un premio nel dire no no perché non abbiamo budget no per questo poi non ci si scopre che non è vero nulla che non ci sia quella cosa e il mister no ci sono in tantissimi ambienti e un po magina in un grandissimo gruppo c'è un responsabile tecnico che ti deve dare delle cose e ti dice sempre no sempre no 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 perché non lo dice sempre no e perché un po perché non vorrebbe affrontare alcune discussioni un po perché non vuole fermarsi lì a ragionarci un po di troppo un po di più perché pigro delle volte non ha voglia di fare certe cose quindi parte col no così è sicuro che sta lì nella sua zona di comfort che più che comfort diventa zona di poltrona e sta lì e quindi non vuol fare nulla anche lì andrebbe stanato questo mister no e fargli capire che questo atteggiamento non funziona e fargli capire che delle volte è dettato anche dal suo dalla sua pigrizia perché non vuole fare alcune cose oppure se c'è un blocco di un certo tipo ovviamente non possiamo andare nello specifico ma è solo per avere una consapevolezza poi c'è quello che io definisco l'eremita l'eremita generalmente una persona che sta lì per i fatti suoi e questo è una personalità dove ammetto di essermi anche ritrovato in qualche occasione perché l'eremita intanto scatta se c'è l'aggressore scatta in automatico cioè sta nel suo angolo non dice nulla non parla mai non sta lì non dice mai niente sta lì in silenzio annuisce delle volte nemmeno fa quello sta lì ad ascoltare basta allora la logica qual è è bene ascoltare non stare lì chiaramente a parlare continuamente perché perde di valore quello che stai dicendo però una tua indicazione non tuo pensiero ci deve essere in una discussione necessariamente se invece rimani totalmente in silenzio rischi di essere trasparente e diventi poi pian piano vittima di tutto il sistema che ti gira attorno per cui l'eremita dovrebbe ogni tanto scendere in città e parlare con gli altri il salvatore del mondo è il salvatore del mondo è un personaggio tutto sommato allegorico allegro pittoresco in un dialogo in una conversazione fa ridere non non è così pericoloso come il salvatore del mondo è quello che in cerca di riconoscimento e questo si riduce in un dialogo quando la persona quando si sta dicendo qualcosa c'è stata fatta fatta un'azione nella tua azienda oppure in un serie degli amici siete andati a fare una visita particolare questo vale ovunque il salvatore del mondo che ovviamente sta per la mia definizione per stare un po in più nel tecnico dovremmo dire il cercatore di riconoscimento ecco dovrebbe essere così cioè quello che siete andati e vabbè grazie a una mia scelta e sì 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 oppure quella volta ci siamo riusciti grazie a me continuo a fare questa cosa e grazie a quella scelta che ho fatto hai visto sono stato molto scaltro nella scegliere quella cosa e via dicendo qui la personalità e ci sono tanti aspetti del perché lo faccia in delle volte anche in sicurezza proprio vero che vuole delle certezze come veniva il termine vuole proprio delle ricerca certezze quindi ricerca riconoscimento vuole sentirsi sicuro vuole avere quella conferma continua e lo fa sempre tieni in considerazione che questa personalità può riguardare non soltanto il gruppo può riguardare un istruttore può riguardare un insegnante che cerca sempre di dire avete visto grazie a me avete fatto grazie qua continuamente chiaramente lì lo può fare ogni tot perché ricordiamoci che se sei un insegnante un formatore ha anche il ruolo dell'educatore per quel quale cosa le devi precisare però se una persona comincia un istruttore in palestra continua a dire grazie a me stai facendo i muscoli grazie continuamente insomma anche fastidioso figurati in un equilibrio di una riunione per cui questo è il salvatore del mondo perché mi fa ridere che sembra che grazie a lui il mondo esista per gli altri sono tutti dei sfigati non funziona nulla e qui poi c'è poi c'è una pericolosa e personalità pericolosa non tanto quanto l'aggressore ma è pericoloso per quello che riguarda anche la sua immagine io l'ho chiamato jolly fake jolly va bene insomma quella persona che deve mettere sempre l'umorismo in una conversazione in un dialogo in una classe il jolly continuo è utile no perché quando tu sei molto arguto fai delle battute intelligenti quando serve quella battuta quando deve dare il ritmo perché è bello avere quella capacità di utilizzare in un gruppo di lavoro una battuta che vada a sdrammatizzare allentare la tensione questo richiede però un passaggio di intelligenza molto acuta e parlo di intelligenza emotiva o un'intelligenza non in generale c'è una differenza ti invito ad andare a cercare il mio video in cui parlavo appunto di intelligenza emotiva le differenze però parliamo proprio di quella capacità di individuare il momento di dire le cose giuste al momento giusto altrimenti utilizzare l'ironia o fare battute nel momento proprio che non dovrebbero essere utilizzate oppure per aggiungere una cosa giusto per parlare allora rovina il flusso di ciò che si sta dicendo ferma il ritmo del dialogo in più se quella persona nell'ambiente ha una certa capacità nel fare le cose la sta devastando la sta distruggendo sta evitando sta rovinando la sua immagine per dirle in altre parole per cui dovrebbe sicuramente stare un po più in silenzio per cui queste sono le cinque personalità che è bene conoscere perché se le conosciamo delle volte riusciamo a vedere se dietro ci sono anche delle situazioni più delicate possiamo intervenire cercare di capire se siamo noi degli amici oppure quando siamo noi stessi vittima diventiamo noi queste personalità perché possiamo esserlo in momenti della nostra vita in cui non stiamo magari bene non stiamo ragionando siamo presi da un'emozione particolare c'è successo qualcosa quindi potremmo cascare in queste personalità ma l'importante anche se noi diciamo siamo un aggressore in un periodo sono il mister no sono le remite il salvatore del mondo il jolly fake l'importante è partire sempre da una consapevolezza e il primo passo che possiamo fare per poi migliorare e riuscire a gestire appunto queste personalità improvvise il mondo è un'emozione particolare